Virmo Orlandi non ce l'ha fatta, si spegne la donna vittima della terribile incidente di Ferragosto. Arresti e spaccio di cocaina a Pesaro, le operazioni di sicurezza dei carabinieri in via Andrea Costa. Principi di incendi in due palazzine a Morciola e Borgo Santa Maria, l'intervento dei vigili del fuoco. Alla casa delle tecnologie emergenti arrivano i corsi da ottobre, nuova opportunità per i giovani. L'Almafano giocherà a Fermignano, le perplessità del sindaco Feduzzi. Un saluto a tutti i telespettatori di Rossini TV e ben ritrovati con il nostro telegiornale di martedì 27 agosto che apriamo con la triste notizia della scomparsa di Virmo Orlandi, la di 67 anni, residente a Ginestreto, che era stata coinvolta in un grave incidente nella giornata di Ferragosto nei pressi di Piobbico. Rianimata sul posto da un giovane medico neolaureato, era stata trasferita in eleambulanza all'ospedale di Torrette dove purtroppo, a seguito di una battaglia tra la vita e la morte durata oltre dieci giorni, non ce l'ha fatta. Quell'incidente la cui violenza dell'impatto è raccontata dalle immagini e dallo stato delle vetture incidentate è stato alla fine fatale per la donna che comunque, fino all'ultimo istante, ha lottato per se stessa e per i suoi cari. Parliamo ora invece dell'arresto che c'è stato in via Andrea Costa a Pesaro, condotto dai carabinieri nei confronti di un ragazzo di origine albanese di 32 anni che è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina e 1000 euro in contanti, probabilmente il guadagno derivato da un'attività di spaccio. Il giovane inoltre è stato trovato in compagnia di un pesarese di 34 anni in possesso di 2,5 grammi di cocaina, presumibilmente appena acquistata, che ha portato per lui alla segnalazione come assuntore di sostanze stupefacenti. Poco distante è stato poi fermato un terzo soggetto in possesso di 5 grammi di cocaina che è stato denunciato per spaccio. Doppio principio d'incendio invece tra la notte di ieri a Vallefoglia e la mattina di oggi a Pesaro. Nel primo caso l'intervento che ha visto in azione i vigili del fuoco è interessato il terzo piano di una palazzina a Morciola di Colbordolo dove la mole di fumo ha allertato i vicini che hanno prontamente chiamato i pompieri. Giunti sul posto non si avvertivano rumori all'interno sino che nel tentativo di entrare il titolare dell'immobile si sarebbe svegliato e aprendo la porta ha permesso il loro immediato intervento. A far partire l'allarme un pentolino dimenticato sul fuoco che ha iniziato a diramare fumo nell'abitazione, fortunatamente però il danno si è limitato solo alla cappa della cucina. L'altro intervento invece è avvenuto intorno alle 10.45 a Borgo Santa Maria dove il principio d'incendio si è verificato all'interno di un garage di una palazzina. L'assenza del proprietario ha comportato l'intervento dei vigili del fuoco che con dell'acqua hanno spento il principio d'incendio che interessava un mobile all'interno. Non si conoscono ancora le cause scatenanti, si esclude la dolosità. In entrambi i casi non è stata necessaria l'evacuazione delle strutture. Passiamo adesso ad alcune novità che riguardano la CTE, ovvero la Casa delle Tecnologie Emergenti, che da ottobre si prepara a presentare i corsi ITS per l'inserimento lavorativo dei giovani nel mondo tecnologico. La Casa delle Tecnologie Emergenti di Pesaro si prepara a presentare un'altra novità, ovvero i corsi ITS per i giovani che avranno l'obiettivo di formare le nuove generazioni affinché si colmi il gap tecnologico soprattutto sotto l'aspetto delle richieste lavorative. Apriremo sicuramente da ottobre degli ITS, dei corsi di formazione per i giovani, quindi potranno specializzarsi in tutto quello che è l'innovazione, verranno sicuramente dedicati al turismo e la cultura, che è un lavoro che è stato fatto in questi anni proprio per valorizzare la nostra città e quindi si continua in quella direzione. La CTE in questi anni ha lavorato seriamente, abbiamo fatto più di otto incontri con la cittadinanza, dove abbiamo appunto qui al piano di sopra, al terzo piano, c'è un laboratorio dove ci stanno lavorando i ragazzi, dove ci sono 15 start-up che lavorano intorno alla CTE, ma senza poi chiaramente da considerare il grande lavoro che sta facendo l'Università di Urbino e di Ancona, dove appunto sta facendo lavorare anche i ragazzi che si sono lanciati nel mondo dell'innovazione, anche con nuove idee e nuovi progetti. Quindi la CTE è stata capace di creare un indotto nella nostra città che forse rimane silente e i cittadini non hanno percepito, però vi avviso che 70 imprese del nostro territorio stanno lavorando intorno a tutto quello che è la CTE. Cosa serve la CTE? che in tutta Italia ci sono solo in 13 città. Serve a fare in modo che anche Pesaro sia sempre competitiva con lo sviluppo economico, perché oggi si parla di innovazione, di nuovo lavoro e noi dobbiamo rimanere al passo con tutto ciò che è la tecnologia digitale. Anche perché nei vari convegni che noi in questi anni abbiamo partecipato, sia come assessore ma anche i nostri tecnici, emerge in modo anche abbastanza elevato che manca un gap, che è quello della formazione in tutto ciò che è digitale. Quindi i ragazzi, anche se sono diplomati o laureati, ma hanno la mancanza di tutto ciò che è nel mondo dell'innovazione e tecnologica. Oggi, come appunto sappiamo, spesso ripetere, che anche entrare nel mondo dell'industria si deve avere la capacità di utilizzare il digitale. Ecco, con questi corsi è un passaggio in più che noi facciamo verso i nostri ragazzi, ma anche i ragazzi di fuori Pesaro, che potranno in qualche modo formarsi per entrare nel mondo del lavoro. Mi dicono che chi esce dagli ITS in modo anche molto semplice riesce ad entrare subito nel mondo del lavoro, come anche un po' con l'università che abbiamo aperto negli anni passati con i corsi di ingegneria e che il 95% trova subito al lavoro appena finito di laurearsi. Facciamo adesso il punto della situazione alberghiera a Fano, che a fronte della stagione estiva, ormai giunta alle sue fasi conclusive, vede una volontà da parte dell'amministrazione e delle associazioni di categoria di incrementare gli eventi per destagionalizzare il movimento turistico. Una stagione estiva che volge al termine per le città costiere e che porta a riflettere sui punti da rafforzare per incrementare il turismo e destagionalizzare le città. Su questo principio si fondano le parole dell'assessore di Fano Santorelli. Oggi siamo in una struttura che ha riqualificato, che sicuramente ha portato ricchezza e valore al territorio ed è su questa lunghezza d'onda che la nostra attività dovrà concentrarsi nei prossimi mesi, ovvero per pensare a un piano particolarizzato alle strutture ecettive che possa infrastrutturalmente dare profondità all'azione turistica di tutto il sistema. Abbiamo sicuramente meno strutture ecettive della città di Senigallia, questo è un segnale negativo che va colmato, ma abbiamo sicuramente però tante aree ancora con la possibilità di sviluppo sia per quanto riguarda le strutture che le iniziative e quindi gli eventi da dislocarsi durante tutta la stagione con anche un'attenzione a quello che è il programma degli eventi che non dovrà sovrapporsi e dovrà sicuramente essere organizzato meglio. Noi dobbiamo innanzitutto fermare la deriva per cui se un hotel sta chiuso per cinque anni poi può trasformarsi in appartamenti, questo ovviamente sarebbe la morte del turismo, quindi è una norma tecnica di attuazione anche nel piano regolatore che è da eliminare e il piano la struttura ecettiva ovviamente dovrà contemplare la possibilità di aumentare i servizi, di riqualificare e di aumentare i servizi all'interno della struttura ecettiva, anche di ampliare la capacità dei posti letto della stessa struttura perché sappiamo che gli alberghi ovviamente sono legati a una reddittività delle camere e questo dobbiamo cercare di dare la possibilità di aumentare questa reddittività in modo da attirare gli investimenti sulla città e di dare la possibilità a chi è proprietario o gestore di albergo di mettere in mano la propria struttura. Il palasport per gli albergatori può sicuramente rappresentare un tassello fondamentale per la destogenalizzazione della città di Fano ed attirare non solo turisti ma anche imprenditori nel territorio. Noi l'abbiamo sempre messo in chiave, questa priorità è da parecchie amministrazioni che chiediamo un palazzetto importante, minimo minimo di 3.000 posti perché gli eventi importanti come abbiamo constatato lo sport durante l'inverno ci porta veramente ossigeno alle nostre strutture. Un investitore che viene nella nostra città ha bisogno di portare avanti un discorso più ampio dei due mesi delle vacanze che fanno gli italiani o gli stranieri a Fano, minimo minimo bisognerebbe portare avanti 4-5 mesi abbondanti di turismo a livello sia sportivo che anche a livello di balneazione. Visto che abbiamo un bellissimo introterra noi cerchiamo di vendere molto con gli eventi di fiere del tartufo, abbiamo attirato tanta tanta gente e puntiamo anche questo discorso sul turismo sportivo e il turismo anche congressuale, anche radunistico perché abbiamo questi giorni un bellissimo raduno del Vespa Club a Fano che porterà tanta tanta gente a conoscere le nostre zone ma non solo anche le nostre degustazioni di prodotti tipici. Andiamo adesso a Gabicce per una notizia che sicuramente farà piacere agli amanti delle due ruote perché ritornano i weekend del mototurista dal 6 all'8 settembre. Dal 6 all'8 settembre a Gabicce torna il weekend del mototurista curato dalla fondazione Visit Gabicce e nel segno dell'inclusività con i ragazzi di Route 21. Si preparano dunque gli amanti delle due ruote per un'esperienza che li porterà alla scoperta del territorio. Nel weekend del moto mondiale a Misano, quest'anno come anche lo scorso anno e per la terza edizione noi organizziamo quest'evento dedicato agli amanti delle due ruote, agli amanti del viaggio sulle due ruote e quest'anno con un'edizione speciale avremo in concomitanza anche la partenza di un evento che ormai è alla decima edizione che è la Route 21, il Giro d'Italia con ragazzi diversamente abili. Siamo molto onorati di questa cosa perché l'evento avrà risonanza anche nazionale, abbiamo già ricevuto contatti con il Ministero delle Disabilità e vedremo di divertirci. La Route 21 nasce dieci anni fa appunto su una mia idea ma più che altro da un mio cruccio in quanto volontario presso altre associazioni e nasce proprio perché il concetto legato alla diversità, alla disabilità era diverso da quello che avevo immaginato io nella mia testa, nel senso, ho creato questo progetto perché l'unica cosa che avevo da offrire quella volta era questa idea e la mia moto. Per cui praticamente con questo viaggio ho voluto sdoganare tutti quelli che erano i luoghi comuni legati alle persone affette con la Trisomia 21, ossia la sindrome di Down. Ho visto per anni ragazzi intorno a un tavolo a fare dei disegnini senza che nessuno si prendesse cura di chiedere loro se avevano voglia di farlo e allora ho chiesto loro se invece volevano fare un giro in moto e soprattutto se volevano diventare dei motociclisti. La risposta è in questi dieci anni, in questi oltre 150.000 km percorsi per le strade di tutta Italia e soprattutto il concetto che noi abbiamo portato con la Route 21 è stato quello che guardando una persona per ciò che è e non per ciò che ha. La risposta a tanti quesiti, a tanti pregiudizi è evidente e sicuramente è più alla portata di tutti. Si è conclusa la ventesima edizione dei Vespri d'Organo di Cristo Re. Grande successo per celebrare questa seconda decade della manifestazione che esce dalla tradizione pesarese e si apre alla provincia riscuotendo numeri positivi in ogni tappa. I Vespri d'Organo a Cristo Re tagliano il traguardo della ventesima edizione in grande stile uscendo dal tradizionale territorio pesarese e diffondendosi per la provincia di Pesaro Urbino con spettacoli che hanno riscosso ovunque un grande successo a testimonianza del percorso tracciato negli anni precedenti e della lungimirante guida di quest'anno. È stata un'edizione novissima che si è inserita nell'arco di 20 eventi del genere per cui è un'associazione che gode di ottima vita e vitalità grazie a quello che è il direttore artistico che è la vera animatrice dell'associazione per la realizzazione degli eventi, la ricerca degli artisti, eccetera. Debo dire che il bilancio di quest'anno è stato estremamente positivo ed è dovuto a un gioco di squadra molto interessante e molto valido. Il mio pensiero va innanzitutto a un ringraziamento doveroso al presidente uscente e al dottor Francesco Marini a quali sono succeduto pensando di fare del mio meglio. L'associazione è arrivata alla sua ventesima edizione e può contare sull'appoggio di questi sponsor, questi sostenitori che io ringrazio a nome di tutta l'associazione e che mi permetto di nominare perché il ringraziamento va unitariamente a tutti e ad ognuno di loro perché se non ci fosse questo loro interessamento, questo loro coinvolgimento, questo loro sostegno l'associazione non avrebbe modo di esprimersi al massimo. Quindi io devo ringraziare innanzitutto la regione Marche, il comune di Pesaro, la fondazione Cassa di Pesaro, l'AMAT, la fondazione l'Arcigiocese di Pesaro, la città di Urbino, la città di Montelabate, la città di Montbaroccio e i due sponsor privati che sono la Comis e Filippo Sorcinelli. E devo dire che quest'anno l'edizione è stata caratterizzata da un'apertura anche verso il territorio, nel senso che fino all'anno scorso le manifestazioni si evolgevano prevalentemente nella città di Pesaro, la chiesa di Cristo Re, la chiesa di nome di Dio, l'Annunziata eccetera. Quest'anno invece l'associazione si è aperta e quindi ha potuto realizzare tre eventi molto belli, molto interessanti che si sono svolti a Urbino, all'Ortorio San Giuseppe, a Montelabate e a Montbaroccio, con partecipazione numerosa di pubblico. Siamo usciti dalla nostra zona di comfort, come accennava il Presidente, grazie alla solicitazione del Sindaco e dell'Assessore alla Bellezza, che ci hanno un po' spinto a organizzare, a portare il Festival dei Vespri d'Organo, giunto alla ventesima edizione, anche al di fuori della città di Pesaro. E quindi abbiamo fatto tre eventi a Montbaroccio, Montelabate e Urbino, molto seguiti alla scoperta di luoghi meravigliosi, ma alla scoperta di organi estremamente interessanti, perché l'obiettivo dell'associazione è proprio quello di valorizzare attraverso i concerti gli organi presenti nel territorio, organi antichi e moderni, che vengono sempre valorizzati attraverso un repertorio adeguato allo strumento. Una cifra di quest'anno è stata anche il fatto di voler eseguire brani legati al territorio e quindi il secondo concerto ha visto come protagonisti la cappella del Duomo di Fano impegnati in esecuzione di Giuseppe Ripi, che è stato maestro di cappella Fano nel 1700, ma anche il concerto Urbinate ha visto tirar fuori dalla polvere degli archivi manoscritti preziosi di musicisti appartenenti ai nostri luoghi. Parliamo ora degli appuntamenti in programma nella nostra provincia, a partire da Montelabate, che questa settimana è capitale della cultura al quadrato e che nella serata di oggi, nella piazza del castello di Farneto, propone alle ore 21 l'evento dal titolo Don Ciro Scarlatti, poeta, prete e cacciatore, tra le conversazioni con Paolo Guccioni, le lettere di Fabio Bernardini, la fisa monica di Atos Donini ed un rinfresco a cura di Avis e Aido. Altro appuntamento da assegnare in agenda è sicuramente quello con l'Associazione Città Ideale, che il 30 agosto alle ore 21 al Teatro Sperimentale di Pesaro proporrà l'evento Essere Vivi Oggi, un vero e proprio dialogo, anche interiore, sulla possibilità di vivere pienamente ogni circostanza della vita. Ricordiamo poi, come sempre, la possibilità di inviarci le vostre segnalazioni con un semplice messaggio WhatsApp al numero 370-366-7210. E concludiamo il TG di oggi parlando di sport e del caso che riguarda l'Almafano, che al momento dovrebbe giocare le partite di casa sul campo del Fermignano, una notizia che ha fatto emergere però alcune perplessità da parte del Sindaco Feduzzi. Noi ci siamo espressi con la società, con l'USF ermignanese, dicendo che natavamo molto favorevoli per il fatto che, comunque sia, uno, l'amministrazione non è stata minimamente coinvolta, quindi sono due accordi privatistici tra due società, dove il fatto che l'USF ermignanese dettisce l'impianto sportivo comunale, appunto, in autonomia rispetto all'amministrazione, perché lo ha dato completamente in gestione alla società. E il fatto che, soprattutto, magari, secondo me, era giusto e doveroso dover risolvere il problema del Mioventus-Fano direttamente a Fano e non portare, praticamente, a migrare la squadra in qua e là, rischiando, comunque sia, anche, magari, di poter creare eventuali casini o disordini, perché, comunque sia, c'è una forte tensione in merito a questa società e non vorrei che questa tensione che, più volte vista sia nei giornali né i social, debba ricadere nella nostra cittadina. Sicuramente tutti quanti i tifosi sono bravissimi e inneggeranno l'alma di Juventus-Fano, però, comunque, sia lo stadio di Fermiano, sia uno stadio piccolino, sia uno stadio grandissimo e, quello che abbiamo detto noi, praticamente, comunque sia la problematica della gestione del ruolo pubblico, è una gestione importante. Ripeto, non vorrei che vi fossero, magari, capito, un sovrannumero di tifosi, praticamente, rispetto alla capienza dello stadio, ma, soprattutto, vorrei che tutto fosse rispettato al massimo, praticamente, per evitare qualsiasi disordina. E' una richiesta ormai vecchia, perché l'abbiamo fatta ai primi di agosto, l'abbiamo fatta una ventina di giorni fa, nella quale, diciamo, appunto, al prefetto che sottolineiamo il fatto 1, che, comunque sia, i problemi di Fano debbano essere risolti a Fano, non a Fermignano facendo migrare la città. E' la seconda cosa, praticamente, dove diciamo il fatto che, comunque, eventualmente di valutare tutte le possibili opzioni per, eventualmente, gestire meglio l'ordine pubblico, cosa che la prefettura sa fare a regola d'arte, sa fare, quindi, come proprio mestiere, quindi, è che noi ci rimettiamo a loro, appunto, in merito a questa situazione, perché, comunque, sia le squadre che possano arrivare sono squadre molto abblasonate, e la U.S. fermianese fa, invece, un campionato di promozione, quindi un campionato inferiore, di categoria inferiore, rispetto a quello che, comunque, sia l'escellenza e il blasone dell'Alma Juventus Fano, può portare, praticamente, a Fermignano. Può essere, da una parte, un plus valore, ma, da una parte, anche, una problematica nella gestione. Prima di passare ai saluti finali, vediamo i programmi che ci attendono su Rossini TV questa sera, a partire dalla TV dei viaggi, che questa sera alle ore 21 farà tappa in Tunisia tra cultura, artigianato e spezie. E poi l'appuntamento del mattino con un buongiorno, Rossini, ormai una tradizione per tutti i mattinieri, la rassegna stampa dei quotidiani locali, alle ore 7.20, in diretta anche su Facebook, con le repliche alle ore 8.20, 12.20, 14.20 e 18.20. Il TG di oggi termina qui, noi vi ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo telegiornale.